Il 2 marzo 1975 il Patriarca di Venezia Albino Luciani scriveva un bigliettino a padre Ferdinando D'Ariese San Pio X, un cappuccino autore di diverse biografie di Santi. Un bigliettino nel quale si congratulava per il bel lavoro su padre Pio da Pietrelcina. Infatti padre Ferdinando aveva appena scritto una biografia, la biografia ufficiale della postulazione della causa di beatificazione e canonizzazione del cappuccino stigmatizzato. Questa è una delle tante notizie che troviamo in un libro appena uscito. Si intitola Giovanni Paolo I. È la prima biografia completa e documentata sul Papa del Sorriso, sul Papa che guidò la Chiesa Universale per soli 33 giorni dal 26 agosto al 29 settembre del 1978. Una biografia che viene pubblicata in occasione del centenario della nascita di Albino Luciani, il quale nacque a Forno di Canale d'Agordo il 17 ottobre del 1912. Autore di questa biografia è Marco Roncalli, saggista, autore di una ventina di volumi sulla storia della Chiesa e della cultura del Novecento italiano. Noi siamo proprio collegati con la libreria San Paolo in via della conciliazione a Roma dove c'è Marco Roncalli disponibile a rispondere ad alcune nostre domande. Partiamo subito con la prima. A tuo giudizio Marco, quale significato possiamo dare ad un pontificato durato solo 33 giorni? Io credo che innanzitutto la vita di Giovanni Paolo I, la vita di Albino Luciani vada letta in tutta la sua totalità e anche se vogliamo in tutta la sua complessità. La stessa cosa dovrebbe valere anche per gli altri pontifici e non solo del Novecento, perché è l'unico modo per riuscire a capire anche e soprattutto a maggior ragione per Albino Luciani il senso di alcune tracce, il senso di alcune scelte, il senso di alcuni orizzonti sostanzialmente. La vita di Albino Luciani è altrettanto interessante perché ci rivela non solo la sua figura umana, la sua figura spirituale, ma ci rivela anche uno spaccato della Chiesa del nostro Novecento e ci rivela la Chiesa nei suoi passaggi cruciali. Teniamo presente che Albino Luciani nasce sostanzialmente alla vigilia della Grande Guerra, entra da piccolo, da bambino, una vocazione come era con suetudine allora, undicenne in seminario. Il seminario da quel momento diventa la sua vera famiglia e in quel seminario resterà non solo per i suoi studi, ma anche per trasmettere agli altri futuri seminaristi, ai seminaristi, ci resterà appunto come insegnante, come educatore, con un grande senso dell'educazione, anche questo è un dato molto importante che va subito sottolineato e ci resterà poi anche come vice-rettore, con tutto quello che comportava una sorta di gestione di questa piccola sostanzialmente famiglia, perché erano sostanzialmente una quarantina di ragazzi, che lui segue, che lui educa, che lui ama. Dopo questo periodo, certamente c'è l'altro periodo successivo in cui in qualche modo anche lui si trova a fare da vicario episcopale tra questi due vescovi, Bortignone e Muccine e poi c'è diciamo così la svolta, la prima grande cesura, cioè Albino Luciani che viene consacrato vescovo nel 58, subito dopo l'elezione dallo stesso Giovanni XXIII. E da lì diciamo che comincia la sua avventura di pastore, quello che lui aveva sempre desiderato fino allora e che tutto sommato aveva fatto per un brevissimo periodo di tempo, quando appunto subito dopo l'ordinazione era stato cappellano ad Agordo. E da lì inizia proprio il periodo in cui noi vediamo anche in questo libro la storia di un vescovo, di un vescovo italiano che poi partecipa non solo alla vita della sua diocesi, ma anche diciamo in senso più largo a quella del Triveneto, quando diventerà Patriarca di Venezia, ma partecipa anche alla vita della conferenza episcopale italiana. Attraversa la grandissima stagione importante del Concilio Comenico Vaticano II, si trova soprattutto poi davanti a tutti quei problemi che caratterizzano quegli anni, gli anni 60, 70, quindi il Concilio sì, ma anche il postconcilio e tutto quello che accade contemporaneamente nella società italiana, con quelle che furono per qualcuno delle grandi battaglie, per qualcuno delle grandi sconfitte, ma che lacerarono anche il tessuto dei cattolici italiani, mi riferisco alla vicenda del divorzio, successivamente a quella dell'aborto, ma ricordiamoci che sono anche anni terribili quegli anni 70, sono gli anni in cui basta una pallottola per spezzare una vita umana, la nascita del fenomeno del terrorismo, ci si inietta l'eroina e si muore giovanissimi per terra, per strada, sono anni in cui anche ci sono dei problemi relativamente nuovi, ma penso anche al problema del concordato che viene posto e diciamo che questo libro aiuta un po' anche a ripercorrere la storia del nostro tempo, ovviamente poi certo c'è la parte finale, questi 33 giorni in parte misteriosi per qualcuno, con anche un epilogo altrettanto misterioso per qualcuno, anche se in questo caso credo che proprio non ci sia nulla di così misterioso, tranne forse degli errori che hanno dato adito da interpretazioni, credo anche con così assolutamente poco attendibile di nessun valore di tipo storico. Il lavoro che ho fatto è stato un lavoro più documentato possibile e ho privilegiato soprattutto le fonti scritte Coeve, ma sono andato anche alla ricerca dei testimoni, quindi i segretari che lui ha avuto via via, ma anche i suoi collaboratori più diretti, le persone che l'hanno conosciuto, ma ho cercato anche di ritracciare la presenza di Luciani in altri contesti, dicevo prima gli anni 60 sono anche gli anni in cui cambiano per esempio i comportamenti elettorali degli italiani, in cui ci sono così l'irruzione anche nella società di nuovi protagonisti, penso al sindacato piuttosto che ai partiti stessi che fanno sentire molto il loro peso, quindi anche un momento in cui la Chiesa avverte fortissimo di non essere più l'unico interlocutore anche in aree dove aveva sempre avuto la leadership, penso al Veneto e quindi diciamo anche la figura di Luciani davanti a questi fenomeni, ma anche con la capacità che ha lui, uomo di Chiesa, di stare vicino come uomo di Chiesa anche alle ansie delle famiglie, ai problemi del lavoro, ai problemi dell'occupazione. Credo che se è vero che ci sono alcune virtù che balzano all'occhio in lui, penso sicuramente questa fede salda come la roccia, ma penso anche al valore che lui dà all'obbedienza, un'obbedienza dove lui legge appunto nell'obbedienza ai suoi superiori quasi un'interpretazione della volontà di Dio, che però interpreta anche in modo, come dire, con una grande consapevolezza dei propri ruoli, via via vengono mutati nel corso del tempo, quindi ci sono queste virtù che sono importantissime, ma c'è anche una grande tenacia nell'uomo, c'è una caparbietà se vogliamo, c'è un uomo che appunto come dicevo prima si spende accanto alle famiglie, ai problemi delle famiglie, ai problemi dei lavoratori e lo fa con un grandissimo senso di solidarietà, che è un senso anche più dilatato se vogliamo, ricordiamo, non si ricorda mai che Luciani stesso ha fatto per esempio un viaggio in Burundi, sentiva anche il problema delle missioni, sentiva il problema degli orizzonti internazionali, io direi che avesse veramente anche assorbito certi documenti importanti, penso alla Populare un progresso di Paolo VI, ecco direi che noi troviamo un po' in questo libro questa sorta di figura un po' a tutto tondo con anche così degli ampi squarci sulla cornice che è quella del suo tempo. A tuo avviso possono essere riconosciuti dagli studi che hai fatto degli elementi di continuità fra il pontificato di Paolo VI, quello di Giovanni Paolo I e quello di Giovanni Paolo II? Beh direi certamente sì, a parte che fosse nella mia concezione, ma studiando un po' le vicende di Luciani ma anche dei suoi predecessori, mi rendo sempre più conto che quella è un po' una catena e quindi se tiriamo via un anello poi casca tutto, ma non è una giustificazione così, è qualcosa che trovo anche una corrispondenza, nei documenti si trova questo filone. Beh innanzitutto direi per parlare di, andando indietro nel tempo, dei suoi predecessori, Giovanni XXIII lo consacra Vescovo, ha dei colloqui molto belli con lui, tra l'altro c'era chi faceva già loro obiezioni sulla salute di Luciani e c'è questa frase di Giovanni XXIII che diceva beh intanto lo facciamo Vescovo e vorrà dire che se è così malandato di salute morirà da Vescovo e poi come sappiamo invece è morto da Papa. Certamente c'è il filone della continuità con Paolo VI dove c'è una grandissima sintonia, c'è una grandissima fedeltà, certo ci sono stati anche alcuni punti dove ci sono stati dei ripensamenti, ma certamente se c'è un cardinale console diciamo così del pontefice è proprio Luciani che è il cardinale di Montini e questo si vede in tanti passaggi, ma si vede anche nella fedeltà con cui lui interpreta direi anche certe vicende, ricordiamoci i sinodi, i sinodi europei, ricordiamoci i convegni della Chiesa italiana negli anni 70, ecco c'è questa fortissima sintonia e credo sia un dato di fatto da sottolineare di nuovo. Certamente c'è immediatamente con la sua nomina, con la sua elezione a pontefice già nel nome stesso, questa sintesi meravigliosa dei suoi due pontefici precedenti, che vuol dire anche comunque portare avanti il concilio e portarlo avanti con una lettura il più aderente possibile alla realtà e poi certamente già ci sono dei rapporti anche con quelli che saranno i suoi successori. È bello ricordare che ci furono già in precedenza degli incontri, anche significativi direi, del cardinal Luciani con, da patriarca per esempio di Venezia, con l'allora cardinale Ratzinger, un bellissimo incontro a ottobre a Bressanone nel 1977, ma se si va a scavare si vedono anche alcune omelie dove già allora il patriarca di Venezia Luciani cita Ratzinger per l'allora cardinale Ratzinger, per questo senso che viene dato anche certamente al primato di Pietro, all'importanza della fedeltà al Papa, che lui interpreta a maggior ragione in modo più forte, essendo appunto patriarca di Venezia, quindi Marco, figlio di Pietro e così, ma c'è anche una forte sintonia con l'allora cardinale Voitiwa, che ovviamente incontra in questi sinodi europei, anzi c'è anche una cosa trovata casualmente in una testimonianza, è capitato anche che i due Voitiwa e Luciani tornassero a casa dopo la giornata dei lavori al Sinodo, dandosi un passaggio, in questo caso Luciani che lo accompagnava all'Aventino, dove c'era il collegio polacco e poi certamente chissà quante altre occasioni che non sono magari emerse e poi certamente c'è anche un guardare alla Polonia in quegli anni già molto interessante da parte di Luciani, non dimentichiamo che molte volte persino delle occasioni apparentemente un po' lontane, possono essere le grandi feste veneziane, la Voga a Longa, il Redentore etc., diventano un pretesto e qualcosa che viene subito abbandonato da Luciani che batte altri tasti, batte altri chiodi, sono gli anni in cui c'è chi parla del dialogo alla prova, c'è qualcuno che ipotizza addirittura una conciliabilità tra le dottine marxiste e quelle e la dottrina cristiana e qui si vede la forza di chi ha a cuore innanzitutto la verità già in precedenza, quando parlavo prima di comportamenti elettorali, di chi magari guardava a sinistra, ci sono degli interventi abbastanza duri di Luciani che figlio del suo tempo ha la sua visione della politica, che per la verità poi non è una visione così marcata, perché io penso che si possa benissimo dire che non è stato un vescovo o un cardinale politico, si è occupato della politica nel momento in cui la politica si occupava dei diritti delle persone, quindi dei cristiani, dei diritti stessi della Chiesa, questo si vede in modo anche eclatante con la vicenda del concordato, le scuole cattoliche, un uomo che vive le stagioni del suo tempo, che ha comunque dei ripensamenti, perché è fondamentale il passaggio per esempio del concilio, lì ci sono anche delle evoluzioni sicuramente, il discorso sulla libertà religiosa è qualcosa che lui introietta e che poi porta avanti e si rende conto anche dei limiti degli studi che lui aveva fatto in precedenza e si rende conto che il concilio è veramente un fatto che, come dice lui, l'orologio della storia sta per scoccare una nuova ora, certamente poi si deve rendere conto nella gestione del periodo del post concilio di tanti fenomeni, i primi fenomeni che divampano del dissenso, ma che non sono solo esterni alla Chiesa, ma sono addirittura dentro la Chiesa e lì con tutta la forza si vede anche un uomo molto tenace, che prende anche delle decisioni che non tutti potrebbero sottoscrivere, quando per esempio scioglie immediatamente la Fucci, che aveva un atteggiamento completamente diverso dalla linea ufficiale della Chiesa nei confronti del divorzio e tante altre occasioni, ma nello stesso tempo è altrettanto duro per esempio con quelli che celebravano la messa a Mori Antico a Venezia, in alcune piccole chiese, con questo clima un po' catacombale, direi un uomo che merita una grande rilettura, dicevo prima perché si legge la sua vita, si legge la storia del nostro tempo, con tante anche sorprese. Dalle tue ricerche emerge come mai i cardinali elettori nel conclave per eleggere il successore di Paolo VI si orientarono su un nome che non era certamente fra i papabili? Il conclave del 78, anzi il primo conclave del 78 è un conclave un po' particolare, ci sono tante ricostruzioni, come tutte le ricostruzioni finché non ci saranno i documenti si possono fare solo delle ipotesi, quello che emerge chiaramente sono alcuni dati sui quali potrei soffermarmi, innanzitutto una brevità, un conclave che si fa in 26 ore, in 4 scrutini e quindi una convergenza immediata. I giudizi immediati dei cardinali di grande entusiasmo, cito solo, non lo so, quello del cardinale Sunes che parla di maggioranza regale o altri cardinali che dicono se sapeste quello a cui abbiamo assistito, se restareste pieni di meraviglia. Ci sono ovviamente poi delle letture anche un po' più da storico dove emerge sicuramente una regia anche per esempio del cardinale di Firenze di Benelli che in qualche modo sostiene questa candidatura, certamente c'è il dato di fatto che c'era anche l'altra opzione, quella del cardinale Siri e certamente però c'è anche la prima attenzione molto forte a un candidato non italiano, anzi ci sono parecchie testimonianze che convergono in questa direzione, cioè se non fosse stato un italiano, in questo caso appunto Luciani, sarebbe stato un cardinale straniero e diciamo già che anche in quel conclave il nome di Voitiva era emerso. Le tue ricerche ti portano a confermare la veridicità della notizia circa la profezia che suor Lucia dos Santos, la terza delle veggenti di Fatima sopravvissuta fece all'allora patriarca di Venezia Albino Luciani, profezia che riguardava il suo pontificato e la sua breve durata? In questo caso ci sono pochissimi testi, sono testi di Luciani quindi su quelli ho fatto molto affidamento, ci sono le testimonianze dei segretari, chiaramente fare un po' il lavoro di ricerca vuole dire anche poi andare a ripercorrere un po' quel pellegrinaggio mariano, quel pellegrinaggio che era stato organizzato da un gesuita veneziano che aveva questa abitudine di portare in pellegrinaggio i fedeli della sua parrocchia e gli altri fedeli veneziani, scegliendo soprattutto tappe mariane, in quel caso ci fu Fatima, Luciani raggiunse poi in aereo, fra l'altro è arrivato anche a ritardo, raggiunse Fatima e lì ci fu questo incontro che però a quanto mi risulta non era un incontro in programma, fu questa Marchesa Olga de Cadavall che era nota a Suor Lucia dos Santos e che quindi organizzò un po' all'ultimo momento questa sorpresa e procurò questo incontro, in realtà poi a questo incontro a quanto mi risulta partecipò la stessa Marchesa, partecipò alla Priora ma per pochissimo tempo perché Luciani così diceva di riuscire abbastanza a capire anche il portoghese, infatti era stato anche in Brasile e aveva studiato un po' durante il periodo del patriarcato proprio il portoghese, proprio in vista di questo viaggio in Brasile dove sarebbe andato a incontrare la comunità soprattutto degli italiani emigrati, detto questo lì di tracce scritte non ci sono, però rimane un po' una sorta di mistero aperto, volendo dirla tutta ci sono alcune affermazioni dello stesso Giovanni Paolo I dove lui dice ma se io avessi saputo che diventavo Papa avrei studiato di più, che in apparenza possono smentire, direi che comunque prove non ci sono, certamente ci sono alcune sensazioni che sono state registrate un po' nel suo entourage, però detto da storico io in questo caso non ho assolutamente elementi a favore e a sostegno di questa presunta profezia che per me rimane tale, salvo un domani magari qualcuno potrà produrre altri documenti, ma sono abbastanza convinto anche perché poi la stessa Marchesa che è vissuta a lungo è tornata alcune volte su questo argomento, lo stesso Luciani ha fatto un resoconto sul bollettino di Venezia di questo suo viaggio e non ha aggiunto, è vero che d'altro canto poi ci sono alcune testimonianze dei familiari di Luciani, di chi non si possono nascondere, dove viene notato un atteggiamento un po' così mutato, c'è qualcuno che ogni tanto torna su questo tema e butta lì delle affermazioni, però dico da storico questo io non mi sento proprio in grado di sostenerlo e finché faccio storia mi fermo qui. Dal tuo lavoro di indagine storica emerge qualche particolare magari meno noto che ti ha colpito della vita di Albino Luciani? Più che aspetto meno noto io vedo che ci sono molti fatti inediti nel volume in questa biografia, in molti casi anche sorprendenti, che dicono come dicevo prima anche la consapevolezza dell'uomo di chiesa, ho trovato documenti inediti che riguardano per esempio il discorso dei preti operai, che riguardano i suoi studi sul discorso che riguarda la morale sessuale, coniugale, familiare, un problema che lui avvertiva molto forte, che non si può liquidare anche nella sola battuta di un sì o no alla pillola e un adeguamento poi alla pronuncia che comunque ci fu dopo l'umane vite di Paolo VI. Ci sono anche delle aperture timide ma interessanti dopo il concilio anche sul diritto che hanno anche appartenenti ad altre religioni, a dei musulmani, ad aprirsi delle moschee, lui dice dovremmo fare meglio noi però il catechismo e probabilmente avremo problemi di tipo diverso. Ci sono tanti di questi aspetti, anche degli episodi simpatici, inediti, però direi che la cosa che mi ha colpito di più di quest'uomo è il fatto come ha interpretato, direi in modo forte, straordinario, delle virtù ordinarie e quindi ritorno proprio a parlare di lui come uomo della fede, come uomo della carità, della solidarietà, come uomo dell'obbedienza che ha fatto anche soffrire forse nella sua vita e che certamente comunque ha sofferto, lo dico sia sul piano fisico perché anche tra le varie piccole scoperte ci sono anche tutti questi tasselli di una vita dove lui, per esempio è stato un mese in sanatorio da giovane oppure anche i suoi interventi che ha subito successivamente, però anche, dicevo, sofferenza sul lato fisico ma anche sul lato proprio spirituale, psicologico, proprio anche dettato per esempio dai contrasti che lui ha avuto nel corso della vita con anche il suo clero, però vedo anche un uomo che ha una grande capacità poi di mettersi davanti a un crocefisso, di togliersi la croce, di togliersi lo zucchetto e di dialogare, di avvertire questa presenza di Gesù in modo forte, veramente come un contemporaneo e di guardare alla bellezza del cristianesimo e contemporaneamente tenere sempre sotto il riflettore il problema della verità. Monsignor Girolamo Bortignon, padre Leopoldo Mandic, padre Pio da Pietrelcina, tre cappuccini nella vita di Albino Luciani. Sì, ci sono molti cappuccini nella vita di Albino Luciani, c'è questo bellissimo rapporto con Leopoldo Mandic, con cui ci furono anche degli incontri in situazioni molto particolari della vita di Luciani, non chiamiamole crisi adolescenziali o di coscienza, ma dei momenti un po' così di aspirazione ad avere delle conferme anche sul percorso futuro della sua vita, incontri molto belli. C'è stato ovviamente l'incontro con il vescovo Bortignon, che anche nella vicenda di padre Pio ha un ruolo importante, diciamo così, e certamente c'è anche sullo sfondo la figura di padre Pio. Per essere storicamente corretti, noi vediamo che in quel periodo Albino Luciani in qualche modo percepisce, vorrei fare una battuta e cavarmela così, c'è una frase in cui lui dice Sant'uomo è il padre, ma tutto quello che c'è attorno in questo momento sa molto di fanatismo. Senza entrare anche nella vicenda di Bortignon, che pure potrebbe aver influito per altri motivi su questa vicenda, c'è Luciani che in qualche modo prende le distanze in quel periodo, non dico tanto dal padre Pio, ma dal fenomeno che visto da lontano e soprattutto nelle contaminazioni locali dei primi gruppi di preghiera era qualcosa secondo lui un po' lontano, ci sono delle frasi dove lui dice ma insomma quelle di padre Pio è una leccornia troppo difficile da mangiare, da inghiottire e quindi c'è anche un modo di guardare anche al discorso della fede, certe volte come qualcosa, per ritornare alla similitudine, alla metafora delle corne è come qualcosa di più robusto, di più forte, tipico magari di certi deschi del Veneto, detto questo certamente c'è poi un'evoluzione e ci sono anche delle lettere molto interessanti, un altro cappuccino che scrive a Luciani di cui ho trovato le lettere per esempio è il padre Fernando D'Ariese di cui fra l'altro c'è una bellissima lettera di Luciani che Luciani ringrazia padre Fernando D'Ariese per il suo bel libro su padre Pio. Grazie a Marco Roncalli per averci illustrato in maniera sintetica alcuni aspetti più significativi della vita di Giovanni Paolo I Albino Luciani e vogliamo concludere questa intervista augurando all'autore di diffondere il più possibile questo suo ultimo lavoro, questo suo ultimo libro anche perché davvero questo pontefice nonostante abbia guidato la Chiesa per soli 33 giorni merita di essere più conosciuto al di là di quanto potrà accadere quando e ci auguriamo prima possibile il suo processo di beatificazione e canonizzazione sarà terminato per cui nel frattempo per approfondire questa figura questo libro davvero rappresenta un passaggio importante per scoprire che al di là del sorriso Papa Luciani aveva davvero una grande competenza teologica e una grande capacità di saperla divulgare a tutti.